Hai mai sentito il detto... Cerca Maria per Roma? È al passetto del Biscione, un luogo un po' nascosto di Roma, che nasce questo modo di dire. Qui infatti si trova l'icona della Madonna della Misericordia ed è proprio da lei che ha origine il detto romano. Perché? In passato l'immagine sacra venne spostata qui ed era così nascosta in questo passaggio che per i devoti trovarla risultava proprio un'impresa difficile. Per saperne di più, leggi la descrizione.